Con me c'era il Mi GT Neo 2, un telefono che gioca a fare il top di gamma ad un prezzo di fascia media. È arrivato in Italia il 15 novembre, ma in Cina è stato presentato il 22 di settembre. Un telefono che neanche ha il tempo di arrivare sul nostro mercato, è già stato interessato da un importante sconto. Due le configurazioni, 12 256 GB e 8 e 128, la prima scontata di 100€ e la seconda di 80€. Un telefono che appunto gioca a fare il top di gamma ad un prezzo di fascia media. Ne ha convinto in quasi tutti i reparti, non è senza compromessi, ma le qualità sono davvero tante. Molto bello l'aspetto di questa colorazione verde, la Neo Green, che si caratterizza da una colorazione blu e una banda nera in cui è contenuto il logo del brand e il claim del Tulip. Un telefono che come già detto mi ha convinto, che mi è piaciuto anche nell'aspetto, ma non vi dico altro. Vi do appuntamento subito dopo la sigla per tutte le mie considerazioni su Reunigiti Neo 2. Ed eccoci dunque in compagnia di Realme GT Neo 2, un telefono che è stato presentato in Cina verso settembre, poco dopo la metà di settembre, che è arrivato in Italia il 15 di novembre in prossimità del Black Friday. Un evento in cui Realme non ha aspettato a mettere il telefono in offerta, tant'è che le due configurazioni di memoria sono state scontate di 100€ per la versione 12-256GB e 80€ per la versione 8-128GB. Ma ne parleremo tra pochissimo, adesso è l'ora di andare a parlare di Realme GT Neo 2. Un telefono dalle dimensioni di 162,9 x 75,8 x 9 mm di spessore e un peso di 200 grammi circa o poco meno. E' un peso ben distribuito, si tiene bene con una mano, si può utilizzare con una mano anche perché i profili sono più morbidi. Nella parte posteriore il vetro opaco. E' un design che a me piace davvero tanto. Ci sono tre le colorazioni di GT Neo 2. Questa verde con la banda che richiama un po' il mondo delle corse. Questa banda che oltre a mostrare il logo dell'azienda ha anche il claim Vertulip. Un colore, dicevo, spregiudicato, appariscente, che però a me piace molto, personalmente mi piace molto, ma non è da tutti. E' chiaro che Realme GT è sempre rivolta ad un pubblico giovane, quindi compatibile con colori un po' più sgargianti, un po' più aggressivi. Però chi vuole un qualcosa di più sobrio c'è la colorazione nera, ma c'è anche una colorazione azzurra, sempre un po' con questi toni appariscenti. Non è molto scivoloso, nonostante la parte posteriore sia in vetro opaco, però la fotocamera posteriore tende a sporgere un pochino. Infatti quando andremo a posizionare il telefono sulla superficie tenderà a ballare. Non si risolve con la cover che aumenta, sì, un po' il grip, anche se è un po' liscia anch'essa. Inoltre si perde un po' il design del telefono, perché una volta applicata, sì, questa colorazione che è un po' grigio, ma è anche un po' verde, non riesco a definirlo in realtà. Si sposa bene con la colorazione verde del telefono, ma fa perdere chiaramente il design e l'aspetto, che è una delle parti più piacevoli di Realme GT Neo 2. Andiamo a vedere la costruzione e le porte del telefono. Nella parte inferiore abbiamo uno slot per le due sim, non è possibile espandere la memoria. Abbiamo la USB Type-C e uno speaker di sistema che collabora con la capsula auricolare per offrire audio stereo. L'audio è di buona qualità, anzi quasi ottima. Forse è un po' inconsistente sui bassi, ma è sicuramente un buon audio per la fascia di prezzo in cui si posiziona il dispositivo. Ma andremo a sentirlo tra poco, quando andremo a provare il telefono durante la sessione di gaming solita. Nella parte destra abbiamo invece il tasto di accensione e nel profilo sinistro il bilanciere del volume. Non abbiamo il jack audio. Niente jack audio, niente espansione di memoria, quindi nessuno è perfetto. Sono due mancanze, è vero, però è un telefono che, nonostante sia soddisfacente sotto quasi tutti i punti di vista, deve far fronte a dei compromessi per andare a offrire un prezzo un po' più accattivante rispetto alla concorrenza. Ma ci arriveremo poi anche in queste considerazioni. Parliamo del display. Un pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Di default è impostato in automatico in modo che il telefono possa decidere quale frequenza di aggiornamento offrire a seconda dell'utilizzo, ma si può anche scegliere o 60 Hz o 120 Hz. Il pannello ha supporto HDR10 Plus e ha una luminosità fino a 1300 nits. Si potrà consultare le immagini e fruire dei contenuti video anche sotto la luce diretta del sole, senza alcun tipo di problema. La diagonale è la 6,62 pollici con rapporto all'aspetto da 29 e risoluzione da 2400 x 1080 pixel. La protezione è Corning Gorilla Glass 5. Dunque, ciò si traduce con un pannello che non soffre tantissimo i riflessi. Certo, ce n'è un pochino come normale che sia. Molto bene la qualità delle immagini. Abbiamo un po' di colori saturi. Tuttavia, si possono regolare, come sempre, dalle impostazioni del display per scegliere una calibrazione più adeguata ai propri gusti. Quindi, molto bene il display. Display che ha una fotocamera anteriore da 16 megapixel per il riconoscimento del volto. Riconoscimento del volto che è istantaneo, anche se bisogna dire che viene sbloccato anche con indosso la mascherina. E nella parte inferiore abbiamo il sensore di impronte. Un sensore di impronte altrettanto scattante e rapido, anche se alle volte non è sempre convincente. A me è successo, con il pollice sinistro, di non riuscire a sbloccare il telefono. Vuoi perché serve un po' di tempo prima di abituarsi alla posizione del sensore di impronte? Vuoi perché non è sempre preciso? Ad ogni modo, la maggior parte delle volte è scattante e preciso, come avete visto in questo momento. Altre volte, invece, è possibile che ci metta un po' più di tempo. Ma parliamo di performance. Realme GT Neo 2 è un telefono che fa il top di gamma a tutti gli effetti ad un prezzo di fascia media. Ora abbiamo lo Snapdragon 888, come molti suoi colleghi, abbiamo lo Snapdragon 870 5G. Questa configurazione di memoria che abbiamo in prova ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Sono sufficienti affinché non si senta la mancanza della microSD. I 12 GB di RAM, inoltre, permettono qualsiasi tipo di utilizzo in accoppiata con un chipset comunque molto, molto performante. Andrà, come è normale che sia, a surriscaldarsi nelle attività più intense. C'è da dire però che il telefono si avvale di un sistema di dissipazione che è un po' più performante. Almeno questo è quello che riferisce Realme. Il sistema di dissipazione è infatti composto da una camera di vapore in acciaio Inox Plus con una struttura di raffreddamento a 8 strati e con un gel termico di diamante sulla CPU. Ciò si traduce con un po' di calore, come già detto, prodotto negli utilizzi più intensi. A mio avviso è un po' inferiore rispetto a quanto solitamente avvertito su Snapdragon 888. Quindi ci si può inoltrare anche nelle sessioni di gaming più intense senza le performance si possono amplificare anche con la modalità GT che offre la Realme UI 2.0. Una volta andato ad attivare lo schermo, andrà a presentare questo effetto grafico. Sinceramente non si sente la necessità di dover aumentare le performance perché con l'utilizzo normale sono elevate senza alcun tipo di boost. Attivando questa opzione che sono andato ad attivare adesso andrà a consumare un pochino più di batteria. A proposito di batteria, abbiamo un modulo da 5000 mAh che con un utilizzo intenso porterà comunque alla fine della giornata. Con un utilizzo un po' più blando si può appuntare al giorno e mezzo, quasi due giorni, con gli utilizzi davvero molto più contenuti. In definitiva, il giorno lavorativo è coperto senza alcun tipo di problema. Inoltre nella confezione è contenuto l'alimentatore da 65 W che carica il telefono davvero molto velocemente. Andiamo a vedere un po' come si comporta nel gaming, sentiamo anche l'audio. Come ho visto come si comporta nel gaming, vediamo come si comporta nella riproduzione di immagini nell'audio. Il reparto fotografico di Realme GT Neo 2 è triplo. Abbiamo una fotocamera principale da 64 megapixel, una grand'angolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Come al solito vi invito a visionare il link in descrizione per andare a vedere tutte le foto scattate con Realme GT Neo 2. Lasciatemi dire che il comparto fotografico si comporta bene in quasi tutte le situazioni. Manca lo stabilizzatore ottico, di giorno non si sente molto la mancanza, ma se ne sentirà verso sera quando bisognerà tenere la mano un po' più ferma. Molto bene la modalità atturna, un po' meno bene in video perché hanno sì la stabilizzazione elettronica, ma in alcuni casi si sente la necessità di uno stabilizzatore ottico. A parte questo comunque l'esperienza con la fotocamera di Realme GT Neo 2 è positiva e andiamo a vedere subito le immagini. Di giorno le immagini sono buone, alle volte si può ottenere una buona definizione, forse un po' troppo contrasto, anche la situazione è un po' eccessiva in alcuni casi, ma in genere le foto di giorno sono buone. Questa è la fotocamera standard che può zoomare fino a 2x, vediamo già come cambia un po' la definizione e il colore fino a 2x, regge, si può aumentare comunque lo zoom fino a 5x di giorno, si possono ottenere con una mano ferma anche scatti buoni. Cambia chiaramente la tonalità, la saturazione e la definizione, di sera non si otterranno certo queste immagini, però appunto non c'è omogeneità nonostante sia la stessa fotocamera. Questa è la fotocamera grandangolare che come vedete cambia saturazione, cambia bilanciamento del bianco senza alcun tipo di cambio di impostazione, infatti ho semplicemente eseguito un punto e scatta, ma cambia da una foto con l'altra. Non benissimo i ritratti, sul display, almeno nella fotocamera, si vedono abbastanza bene, in realtà manca un po' di definizione, non è il miglior telefono per scattare i ritratti, però insomma non si può neanche criticare troppo. Ripeto, non fatevi ingannare dal display perché migliora sicuramente l'immagine, in realtà la desktop non è la qualità che si vede sul telefono, ma è comunque una qualità buona. Nel alcuni casi, come dicevo, il bilanciamento del bianco cambia e anche repentinamente, basta guardare queste foto, come cambia il colore delle foglie. Qui un giallo un po' più intenso, qui invece colori un po' più freddi che tendono al magenta. Vedete come cambia questa foto da quest'altra. Mi sono divertito invece nello scattare tramonti, ha questa inclinazione appunto al magenta che va a rilevare un po' delle sfumature che solitamente su altri dispositivi non si vanno a notare. Come vedete già si incominciano ad avere foto mosse perché manca lo stabilizzatore ottico, però con una mano un po' ferma si possono produrre buone immagini come questa di sera. Queste sono tutte scattate senza la modalità notturna. Andando adattare invece la modalità notturna le immagini migliorano anche specie in interni. Ma in questi casi non ho sentito la necessità. Un altro caso in cui i colori non sono fedeli alla realtà è in questo. In questa scena, quando sono andato a fotografare questa parte del parco e vedete come cambiano le colorazioni dalla fotocamera grandangolare alla fotocamera standard. Il colore del cielo non era assolutamente così. Neanche le foglie sotto. Insomma, in linea generale le tre fotocamere posteriori si comportano bene, a parte la fotocamera macro da 2 megapixel che funziona anche dignitosamente quando c'è luce abbondante, un po' meno quando c'è poca luce. La fotocamera anteriore da 16 megapixel non mi ha esaltato, le foto non sono male, intendiamoci, ma non sono neanche delle migliori. Nel complesso comunque il comparto fotografico di Remigiti Neo 2 si comporta bene, gli scatti sono buoni, bisognerà avere un po' più di pazienza di sera, avere una mano stabile, perché manca lo stabilizzatore ottico appunto, ma nel complesso le immagini sono buone. A proposito dei video, si possono registrare video a 1080p a 30fps oppure a 4k a 30-60fps con la stabilizzazione elettronica. Abbiamo ovviamente la connettività 5G, NFC, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, mentre la GPU e l'Adreno 650. Per quel che riguarda Realme GT Neo 2 mi sembra di aver detto tutto il prezzo. Adesso, il lunedì 22 novembre, siamo in piena settimana del Black Friday, si aggira intorno ai 449€ per la versione 12-256GB e 369€ per la versione 828GB. Non ho provato la versione con meno memoria, ma non penso che ci sia una discrepanza così elevata, tale per cui gli è assolutissimamente preferibile la versione 12-256GB, ma è anche vero che ad un prezzo non troppo distante, a meno di 100€ di distanza da una versione e dall'altra, quella più prestante gli è sicuramente più preferibile. Un prezzo davvero molto accattivante, sono 449€, che senza sconto sarebbero 549€, ma che ha performance davvero top di gamma. Certo, come dicevo, l'introduzione vive di un po' di compromessi, ma in generale sono tutti accettabili. Abbiamo una buona fotocamera, abbiamo un ottimo audio e un ottimo display, oltre ad un'autonomia che permette di arrivare fino a sera. Insomma, si rivolge come sempre ai più giovani o a chi vuole un'esperienza da top di gamma, senza inoltrarsi a costi superiori a 800€. Insomma, quindi è un telefono che promuovo quasi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo, certo, qualche mancanza nel reparto fotografico e manca l'espansione di memoria e il jack audio, ma, ripeto, è un telefono che vive di compromessi e i compromessi che sono stati richiesti per la realizzazione di Rami GT Neo 2 sono assolutamente accettabili. Un telefono quindi che mi ha convinto e che mi è piaciuto, anche dal lato estetico. Se la recensione ti è piaciuta, puoi mettere un like e iscriverti al canale. Io sono Roberto, ti ringrazio per essere stati con me fino ad ora. Vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao, alla prossima. Se la recensione vi è piaciuta, vi do appuntamento alla prossima. Vi invito a mettere un like al video e a registrarvi al canale e attivare la campanella. In descrizione ci sono tutti i link per scoprire di più su Rami GT Neo 2. Io vi do appuntamento alla prossima recensione. Vi ringrazio per essere stati con me fino adesso. Ciao, alla prossima. Roberto